Ciao ragazzi, siamo reduci da una bellissima gara ieri sera al Watkins Glen, una gara in notturna mentre qui scorro su tutti i piloti alla partenza. Abbiamo avuto tre lobby, oltre delirio come sempre in partenza, una 30-35 piloti iscritti a questo evento e lo porto come intro al video di oggi che ovviamente introduce la patch 1.31 che è in uscita. Uscirà domani. Io non sono in perfette condizioni, un po' di influenza, probabilmente sentite anche la voce e speggo la webcam per non farvi vedere le condizioni pessime in cui mi ritrovo ma con i ragazzi qui che si divertono in questa gara nottuna, ragazzi bellissimi, come detto tre lobby. Se volete partecipare anche ai prossimi eventi, in descrizione trovate il link al nostro server Discord, cliccatelo, venite dall'altra parte. Ovviamente se volete supportare i contenuti che porto qui sul canale YouTube, lasciate un mi piace a questo video e iscrivetevi. Ragazzi ci sono novità pazzesche per questa patch 1.31. Troppe. Abbiamo già visto pochi giorni fa l'arrivo delle 5.9 auto che leggo velocemente degli appunti che mi sono preso senza doverle mostrare nuovamente. Abbiamo la Audi RS5, la DTM, quella bellissima che non vedo l'ora di guidare. Poi la Mazda 3, vedremo. Due belle Porsche, una 959. Anche questa credo sia leggendaria dell'87 e poi la Porsche Carrera GTS 904, super leggendaria, essendo del 64. In aggiunta, il nostro buon caro Kaz ha voluto portare la sua auto preferita con cui fa la spesa e la Toyota Alfa, l'avete visto, quel van imbarazzante. Comunque, auto viste. Cosa ci sarà di nuovo? E adesso esco un attimo dal replay per andare dentro la scremata del gioco e farvelo vedere dove verranno appunto create queste nuove aggiunte. Allora, come detto, ci saranno due nuovi layout, verranno introdotti dentro i circuiti mondiali, sono dentro la stessa pista, l'abbiamo visto in realtà in precedenza, con un piccolo spoiler dentro i replay, nella ricerca dei replay venivano mostrati due nuovi layout. Qui ovviamente sono i nuovi eventi, verranno messi anche qua. Per farvi vedere meglio, qui ci sono quattro tracciati, cioè quattro layout all'interno dello stesso complesso, qui del Nürburgring, e verranno aggiunte le versioni della Endurance e della Sprint. Diciamo che non è come se aggiungessero un mega nuovo tracciato di per sé, ma comunque avere due nuovi layout porta a delle alternative e sono sempre ben accette. In poche parole, i due tracciati, i due nuovi layout verranno basati su questo, sul Grand Prix. Il primo, la Sprint, vedrà una riduzione del tracciato. La stessa riduzione che verrà fatta con una curva a gomito, poi verrà montata, se così si può dire, sul circuito normale che è questo, diciamo sul complesso, sul completo. Quindi i due nuovi layout verranno aggiunti qui sul Nürburgring e questa cosa porterà anche l'introduzione di due eventi, non solo qui al Nürburgring, ma qui al Nürburgring, oltre a questi qua in aggiunta, come vedete, li ho fatti tutti. Sì, li ho fatti tutti anche vincendo, bravo, bravo me. Verranno aggiunto World Touring Car da 800, che qui non c'è, quindi verrà questo, ma da 800ppi, vedremo quanto pagherà. Non so su quale dei nuovi layout verrà messo, vedremo, scopriremo domani. E ci sarà anche un'altra challenge da 600ppi con le auto giapponesi, che qua non c'è niente. Praticamente è questa, però con il quattro ruote motrici, quindi il 4WD, da 600ppi, con le auto solo giapponesi. Se questo è european, da 5.50 c'è sarà un altro. Quindi al Nürburgring qua avremo due nuove introduzioni di layout che porteranno a due nuovi eventi, direi non male. Oltre a questi, se ci spostiamo in Asia e Oceania, abbiamo al Tokyo Expressway, quindi su questa pista, la stessa challenge aggiunta al Nürburgring, quindi il quattro ruote motrici, quindi il 4WD, che qui non abbiamo, da 600ppi, verrà aggiunta qua. Quindi questi qua non li ho ancora fatti, questi eventi, molti li ho saltati, pazienza, e dovrei recuperare in questi. Comunque avremo un altro 600ppi aggiunto qui, mentre al Kyoto Driving Park, che abbiamo qui in alto, qui ci sarà una Porsche Cup. Molto interessante, anche questo vi chiederete come mai. Adesso questi tre, diciamo questi, in realtà sono quattro nuovi eventi, danno un senso alle auto che arrivano, perché con la Porsche Cup aggiunta qui, ovviamente potreste utilizzare una delle leggendarie Porsche Prese. Con l'800ppi, immagino, forse l'audio è un po' sotto, ma forse sì, volendo con l'audio si potrebbe fare, quindi potrebbe essere utilizzata. Poi vedremo quale auto scegliere per la challenge a 600ppi. Altre aggiunte minori, mentre torniamo nel menu principale, ci sarà, verrà raddoppiato la frequenza della trasmissione del video. Come ben sapete, oggi siamo a 60 Hz, visto che anche tutti i nuovi dispositivi TV monitor vari hanno come base spesso i 120 Hz, Gran Turismo 7, da questo momento in poi, dalla 1,31, supporterà anche questa cosa. Quindi, se qualcuno di voi ha monitor compatibili, vedrà la bellezza di questa nuova introduzione, quindi dalla parte visiva sarete super soddisfatti. Ovviamente, arriveranno anche dei cambiamenti per quanto riguarda i menu del caffè, quindi qua verranno aggiunti chiaramente delle cose nuove. La nuova Toyota imbarazzante guidata da Kaz verrà probabilmente, ci sarà un menu qua, penso il 47 a questo punto, che avrà il focus sull'ultima introduzione di Kaz, poi vedremo se ci saranno delle altre cose. Ma la rivoluzione, ragazzi, è veramente enorme. Perché? Perché tutti i nostri, e andiamo a vederli insieme, tutti i nostri setup fatti fino ad oggi, probabilmente saranno da prendere e da buttare. Perché? Ve lo spiego per un secondo. Perché ci sarà una modifica enorme sulla fisica del gioco. Quindi tutta la parte di sospensioni verrà drasticamente cambiata. Ovviamente questo sarà fatto per migliorare l'esperienza nostra, quindi la stabilità delle auto durante il gioco. Perché da quello che ho letto sulla Release Note, su cui sto basando appunto il contenuto che vi porto oggi, spesso c'erano problemi in fase di frenata, che l'auto perdeva stabilità. Quindi hanno lavorato tantissimo su questa roba qua. Quindi, senza andare troppo nel dettaglio oggi, ma a parte questo singolo dato dell'LSD lì verrà cambiato, ma tutta questa parte qui, tutta direi. Vedremo poi quale singolo valore, su quale singola macchina, in quale condizione, su quale pista sarà da cambiare maggiormente. Quindi sarà una rivoluzione da questo punto di vista. Tutta la fisica del gioco cambierà. E cosa cambierà oltre questo? Sarà ancora più importante. Noi siamo nel bel mezzo di un campionato, dove abbiamo stabilito dei consumi precisi per le gomme, in gare da 30 minuti. Cambierà pure quello. Quindi tutti i consumi che abbiamo stabilito per le medie, le morbide, probabilmente saranno da rivedere. Quindi chi fa parte del campionato riceverà aggiornamenti. Tutti gli altri riceveranno aggiornamenti da me e da coloro che parlano un po' di Gran Turismo 7, sperando di portare un servizio utile a chi è interessato. Perché quello che... Se vi ricordate, nel corso di questo anno spesso c'era un consumo praticamente nullo. Mi ricordo che si andava in Sardegna, sulla gara da 800ppi, e non si consumava assolutamente niente. Molto probabilmente da adesso, i consumi delle vostre auto, se vi ricordate, appunto, ho messo la Sardegna apposta. Si arrivava qui con le gomme dure e... Ormai saranno passati sei mesi, credo. Non era necessario fare alcun cambio gomme. Poi con la patch successiva, in realtà probabilmente hanno sballato un po' tutto e le gomme dure duravano pochissimo. Se non sbaglio, qua vado veramente a memoria, hanno ricambiato poco dopo i settaggi per renderla di nuovo decente. È da un po' di tempo che ci siamo abituati, sia appunto alle sospensioni, come ho detto poco fa, che ha i consumi in una certa maniera, mentre io spingo gente fuori. Ci sarà da rivedere tutto. Va bene, dovremmo solo riabituarci. Perché appunto hanno detto di aver migliorato il consumo, come detto, e anche il sovrariscaldamento, il riscaldamento stesso, la temperatura appunto delle gomme sul gioco. Vedremo. Un altro problema, e qua mi riferisco sempre a cosa scrivono nella pace, nel release note, era dato dall'acqua planning effetto, che come ben sapete, quando piove, ci sono delle pozze, si formano queste pozzanghere, perché l'auto diventava molto meno controllabile di quanto già lo fosse nella realtà. Quindi cambiamenti anche sotto questo punto di vista. Un altro mega, 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 mega cambiamento è relativo alla parte dell'aerodinamica. L'altra introduzione che stavo cercando di portare prima che la voce se ne andasse del tutto è legata all'aerodinamica. C'è stato un teaser qualche tempo fa riguardo alle superformula di quest'anno, del 2023, che sono state appunto introdotte credo ormai due mesi fa, sì, all'inizio di gennaio, arriveranno alle superformula 2023 e per far ciò Gran Turismo 7 si sta adeguando e sta sistemando un po' l'aerodinamica per far sì che la downforce e gli effetti della downforce siano appunto, diciamo, reali, che diano un'esperienza maggiore. E vedremo appunto come questo impatterà il gioco sulle cose per cui siamo abituati fino ad oggi. cambierà molto probabilmente come è sempre stato tutto il calcolo dei PP, dei performance point dista la nuova introduzione, il cambiamento enorme nuovamente della fisica, quindi una rivoluzione. Come detto, i setup che abbiamo secondo me il 50% possiamo prenderli e buttarli. È un bene probabilmente. Non sarà così semplice ripartire da zero ma ci proveremo. Io proverò anche a portare quello che posso. hanno modificato anche gli aiuti alla guida dove l'ABS è stato sistemato per migliorare appunto la stabilità durante la fase di frenata. Il TCS è stato rivisto perché adesso il valore a zero vedrà ancora meno aiuti e il valore massimo credo fosse a 5 riceverà ancora più aiuti. Quindi hanno un po' livellato verso gli estremi questi due valori. Poi anche l'aiuto del controsterzo e tutti questi aiuti alla guida i driver assist credo sono stati rivisti. Quindi ragazzi veramente ogni piccolo particolare come vedete sta cambiando. La roba molto importante per noi perché abbiamo ormai un team che fa le live per qualsiasi gara introdotta dai componenti è che finalmente potrà essere utilizzata la tastiera una roba che nei vecchi GT era già attiva. Quando fate le live quando fate il broadcast quando siete appunto voi i registi dell'evento potrete cambiare facilmente con i pulsanti vedremo poi quali saranno i pulsanti assegnati ad ogni singola funzione ma per me è un'introduzione molto molto bella vengono annunciati anche cambiamenti nella modalità sport con delle si spera dei ritocchi al sistema delle planità perché finora come avete visto ho parlato anche di video abbastanza imbarazzanti purtroppo purtroppo i prezzi delle auto leggendari saliranno questo perché siamo in presenza di un sistema dinamico di prezzi che segue un po' ciò che nella realtà il leggendario concessionario per le auto leggendarie Hagerty che ormai conoscete quindi se i prezzi salgono nella realtà GT ha deciso che noi dobbiamo farmare di più per comparci le auto giusto o sbagliato che sia è così poi ci sono altri piccoli cambiamenti spero che vanno a toccare le esperienze sul circuito i test per la patente le varie missioni gli escapes come sempre e oltre il touch over verrà anche tolto ve l'ha tolta a Sophie perché sono promesso appunto che sarebbe rimasto un mese siamo adesso a fine marzo spero abbiate potuto giocarci era solo disponibile per PS5 l'esperienza per me è stata positiva diciamo non ancora del tutto completa come vorrei vederlo ho portato anche un video cazzeggiavo un po' tiravo fuori Sophie la insabbiavo e vincevo era l'unico modo per me essendo un pilota velocissimo per battere il top ma ci siamo fatti due risate vedremo se oltre tutto ciò introdurranno altri bug vediamo se il bug dell'AMG che gira a Tokyo praticamente super potenziata e vince in scioltezza verrà sistemato ma io mi aspetto che magari sistemino quello e ne introducano un altro per ora è tutto spero di star meglio domani per portarvi l'update con un diciamo real time altrimenti possiamo basarci su quanto portato oggi e probabilmente nei prossimi giorni vi porterò un contenuto più dettagliato in game per farvi vedere effettivamente cosa è cambiato dove è stato modificato qualcosa farò dei test con il team anche sui consumi ve li porterò per darvi una mano e vedremo quali saranno poi le auto meta probabilmente per ogni categoria e quali saranno state un po' nerfate come si dice nel gergo che saranno un po' limitate e avranno perso la potenza che avevano nelle versioni precedenti io vi ringrazio ragazzi come sempre se volete lasciare un mi piace iscrivervi al canale commentare qui sotto o venire a trovarci su discord se non siete ancora parte dei quasi mille iscritti per giocare l'hanno fatto di recente due ragazzi che sono iscritti a discord ieri e in serata erano già parte dell'evento che abbiamo visto a Watkins Glen quindi c'è spazio e possibilità per tutti per divertirsi io vi ringrazio vado a riposarmi e ci vediamo alla prossima ciao ciao